Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Urbino per spaccio di sostanze stupefacenti e per concorso, a vario titolo, nella cessione di eroina a un uomo poi deceduto. Un episodio che risale allo scorso febbraio, quando a Sant'Angelo Invado i carabinieri intervennero per la morte di un uomo deceduto all'interno della propria casa per arresto cardiaco. A chiamare i soccorsi fu il nipote la cui presenza fu subito attenzionata dagli inquirenti, visto che fin dai primi accertamenti si constatò l'utilizzo di eroina prima del decesso e l'autopsia confermò la morte per overdose. L'ispezione del telefono cellulare insospettì ulteriormente i carabinieri che notarono la completa cancellazione di chat e telefonate di quel giorno. Partì dunque la caccia che aveva fornito la dose letale con le indagini che si concentrarono su una sala scommessa della zona. Le testimonianze raccolte e gli elementi probatori acquisiti hanno consentito agli investigatori di risalire alla probabile filiera della dose letale che sarebbe stata ceduta la vittima proprio dal nipote che a sua volta l'aveva acquistata poco ore prima da un 44enne originario della provincia di Pesaro Urbino, frequentatore della sala scommesse. Il proseguo delle indagini permetteva poi di allargare il cerchio. I carabinieri, grazie a intercettazioni e all'analisi di tebulati telefonici, sono riusciti ad arrivare al gradino più alto della filiera dello spaccio, ovvero un 26enne nordafricano già noto agli inquirenti, al quale sono state poi attribuite decine di cessioni di eroina a persone della zona. Gli esiti complessivi delle indagini hanno portato agli arresti domiciliari emessi dal Tribunale di Urbino per tutti e tre gli indagati che dovranno difendersi dall'accusa di spaccio di stupefacenti e del concorso a vario titolo nell'attività di spaccio che ha causato la morte di un uomo.